E' scritto a parlare per il primo intervento la senatrice Lunesu. Grazie. Grazie, Presidente. Viviamo un momento storico in cui i sacrifici svolti dai giovani sono completamente differenti da quelli della nostra epoca o dell'epoca dei nostri genitori. Si combatte meno e si ottiene tutto con troppa facilità. Questa mancanza di dedizione porta le nuove generazioni ad abbandonare tutto alle prime difficoltà. In Italia la quota di popolazione con titolo di studio terziario continua ad essere molto bassa rispetto all'UE. Ma per fortuna non sempre è così. In concomitanza con la vittoria dei calciatori azzurri ai campionati europei è emersa una giovane atleta. E' di lei che voglio parlare. Ha dimostrato, mensana e incorpore sano, che prendersi cura del proprio corpo, condurre una vita sana per avere una mente lucida, attenta a sfruttare al cento per cento le doti cognitive, può portare a risultati eccezionali. Questo è successo a lei. Si chiama Dalia Caddari, nasce a Cagliari il 23 marzo 2001, da madre sarda e padre marocchino, che da trent'anni vive in Sardegna e fa il commerciante. L'integrazione in Italia è possibile. Rispetto delle regole, assimilazione delle leggi italiane, diritto all'istruzione e al lavoro. Esempio di perfetta integrazione. Dalia si fa notare. E' bellissima. E' stata a Miss Quartu, città dove risiede, ed è velocissima. Campionessa italiana di 200 metri. Inizia in tenere età con il basket. Poi i suoi istruttori capiscono il suo talento per l'atletica. La sprinter italiana sarda delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, conquista ancora ai juniores la prima maglia tricolore, che consolida la sua seconda posizione nella lista italiana della categoria. E' stata seconda sugli 80 agli studenteschi del 2015 e così di seguito. La sua è stata una collezione di trofei. L'ultimo, in ordine cronologico, la medaglia d'argento conquistata in Polonia agli europei a squadre. L'atleta delle Fiamme Oro ha fatto registrare il primato personale sui 200 metri. Al Golden Gala, che vale anche il record europeo Under 23. Il terzo crono di sempre per un'italiana sui 200 metri piani femminili. Ha conquistato la medaglia d'argento per la Fiamme Oro. Quando il Premier Draghi ha posato per la foto ufficiale con la Coppa Europea vinta per gli Azzurri, ha voluto Dalia al suo fianco. Dalia è ragazza a quel sapone, sempre sorridente, un esempio di costanza e determinazione. Alle sfilate ha preferito lo sport, la competizione, il sacrificio, la campionessa di 200 metri, vero orgoglio di Sardegna. La terza italiana, più veloce di sempre. Che sia Dalia, presidente, è un esempio. Ha preso il sacrificio, il rispetto per la famiglia e per il prossimo, l'amore per lo sport. Conduce una vita sana per sfruttare al meglio la capacità e dare il massimo a scuole e all'università. Tenaccia e capabilità che la proietteranno a Tocchio con la supernutrita Patiglia Azzurra. La ringrazio.